I nostri leader, Presidente Napolitano e Presidente Bush, hanno molte tematiche di cui parlare. Il nostro rapporto è importante per i nostri popoli e per tante altre persone che vivono in altri paesi. L'Italia è un nostro alleato chiave in molte aree di crisi e svolge un ruolo di leadership in numerose regioni del mondo. Lavoriamo insieme nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove l'Italia sta per assumere la Presidenza, e nella Nato. La nostra aspettativa è quella di avere un rinnovato impegno e di sviluppare un dialogo propositivo su come far avanzare i nostri interessi comuni in materia di libertà, sicurezza e benessere. Da ambasciatore mi sono impegnato a potenziare i programmi di scambio tra Italia e Stati Uniti perché sono convinto che il legame culturale e la conoscenza reciproca siano elementi fondamentali del rapporto tra i nostri due paesi. Un rapporto di solida amicizia che affonda le proprie radici nella condivisione di valori fondamentali come la libertà, la democrazia, il rispetto e la promozione dei diritti umani. I legami economici tra i nostri due paesi non rispecchiano tuttavia l'ottima relazione che abbiamo da un punto di vista politico. Dobbiamo impegnarci insieme per migliorare gli scambi commerciali e per attrarre maggiori investimenti americani in Italia. Per questo motivo abbiamo avviato un'iniziativa chiamata Partnership for Growth è basata su quattro pilastri principali maggiori tutela della proprietà intellettuale promozione di strumenti finanziari a sostegno delle imprese come il private equity e il venture capital rafforzamento della collaborazione tra il mondo della ricerca e le imprese. Abbiamo poi creato un nuovo programma di scambio chiamato Fulbright Best rivolto a giovani ricercatori italiani che desiderano fare un'esperienza di studio e di lavoro negli Stati Uniti. L'Italia si è recentemente unita agli Stati Uniti ed ad altri 15 paesi nella Global Nuclear Energy Partnership e siamo lieti di accogliere l'Italia come membro a pieno titolo dello Steering Group che si riunirà nei prossimi giorni a Vienna. L'obiettivo dello Steering Group è quello di agevolare la cooperazione nel perseguimento di fonti di energia nucleare pulite e sostenibili in tutto il mondo, in modo sicuro, riducendo nel contempo il rischio della proliferazione nucleare. E tale sviluppo andrà a beneficio degli italiani indipendentemente dalle scelte future riguardanti il nucleare in Italia. Tra le altre cose, la partnership cercherà di sviluppare e dimostrare tecnologie avanzate di ciclo del combustibile che possono ridurre in modo significativo le scorie nucleari e semplificare il loro smaltimento. Si tratta di un'area in cui sono sicuro che il contributo degli esperti italiani sarà il benvenuto. Soltanto lavorando insieme possiamo sperare di risolvere questo tipo di sfide al beneficio delle nostre società.